Siamo registrando anche se è una prova, sono le facce risveglie, mi spacca la faccia, iniziamo a orizzonti e più inclinato e più bello è, ecco. Allora ragazzi, ascoltate un attimo, siamo quasi pronti, ho bisogno che tutti quanti voi, soprattutto voi che state qui avanti, veniate un metro avanti e state più vicino a lui, ok? Venite un metro avanti per cui il baserino e prima fila delle figurazioni venite avanti, ok? Venite avanti ancora, seconda fila venite mezzo passo avanti, ok? Grazie, proviamo così. Adesso metteremo un paio di persone sul fondo, molto più sul fondo ci penserà l'aiuto dei dita, adesso invece noi che siamo qui, le ali, venite più a banana, no, venite più a banana, per cui il secco, così, vieni qua, e in cerchio. Cercate di non lasciare troppi spazi, però qui dopo il momento va bene, qui c'è un buco. Ma tu non ballo, non balliamo, no? Con la signora, con la signora, con la signora. Non è la signora. Facciamo un signore di Rosmanicino. Io sono così. È la sinistra che va avanti. È la sinistra che va avanti. È che loro sono... Cioè, sicuramente voi l'avete imparato tutti, perché non lo stanno spesso. Non lo voglio ordinare. Penso che è la sinistra. Questa è una buona posizione per tutti, cercate di non lasciare i buchi tra di voi. Se vedete un buchetto, mettetevi così che tutto quanto venga ben coperto, ok ragazzi? Grazie. Se così fosse, siamo pronti. Due, tra le tue. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Nice. Grazie a tutti. Vai. 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 하나, five,... ed... 5 6 7 8 7 8 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 9 10 10 10 10 10 11 11 12 13 13 14 15 16 17 17 17 17 18 19 19 20 20 22 17 17 21 21 25 25 22 29 25 25 25 26 26 25 e il manichino, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 8, 7, 6, 5, e il manichino, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 26, 28, 25, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 31, 32, 24, 27, 28, 28, 28, 29, 32, 28, 29, Ginochi, 5, 6, 7, 8, 1, 3, ancora, bravi, 1, 4, 5, 6, orizzonte, vai! Step touch, 6, 7, 8, step touch, vai, bravissimi, ancora, manichino, 6, 7, 8, manichino, vai, più avanti, vai, work it, and ginocchia, 7, 8, avanti, work the knees, work, ginocchia, ancora! Step, 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 Sì, sì, manichino, bravi, ginocchia, e rupe, tre, cinque, cambia, vai, vai, work it, work the knees, ginocchia, ginocchia, sì, ginocchia, sì, sì, tanto, e orizzonte, stop, bravi, sì. Do you have, like, an Instagram account that we could follow or something like that? No, I'm on Facebook, no. Can you just, like, tell me, like, what's your Facebook account? Facebook, Brian Bullard, B-U-L-L-A-R-D. Yeah, okay. Thank you very much. You live here? Yeah, in Ohio. Oh, wow. Tantiani. And the client's insane, everything, right? He's the assistant for sure. Yeah. Hi, nice to meet you. Antoine. Yes. Yeah. Thank you. Thank you. Also, everyone told me that you were so beautiful. Thank you. She got you. You're German, right? Yeah. Is it possible for you to greet my daughter in the Deutschland? Yeah, sure. He's Michelin, Michelin, Deutsch. Ah, okay. Her name is Mayumi. Mayoni? Mayumi, yeah. Mayumi, yeah. Mayumi, yeah. In German? Yeah, yeah, please, bitte, bitte. Hallo, Mayumi. It's Mayumi? Yeah, Mayumi Burger. Okay, let's do it again. Okay. Mayumi? Yeah. Hallo, Mayumi. It's really fun that I can introduce you today. Have fun. Bye. Again? Very good. JSM, you can hear me now? Yes? If I say JSM, action, you can hear me. JSM, if you can hear me, raise your hand. Sven, Sven, can you hear me? Sven, Sven, Sven. Sven, Sven, can you hear me? If I call it JSM, Sven, whatever you prefer. Okay, raise your right hand. Raise your right hand. Vai la vicino, Davide, mettere lì, che casomagica a te con la radio, okay? Ti dico io. Binappe, contagia, binappe, contagia, binappe, contagia. Torni per girare, ragazzi, ultimi secondi e poi giriamo. Binappe, ready? Sempre bloccato. Sei pronto? David, the door of the shop is open. Vittorio, mi apri? Mi tieni aperta la porta del negozio team, per favore, grazie. Puoi tenere aperta la porta del negozio team. Stiamo diventando un mondo. Prima posizione, giriamo, stand by. David, due minuti per il logo. Non si, non fa bene, non riesce, non è bene. Pronti, uno, due, tre, quattro, orizzonte, sette, otte, dentro, su, giù, su, 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 ancora, vai, fiuso in giù, fiuso in giù, su, giù, adesso step touch, cinque, sei, sette, spalle, spalle, su. Adesso orizzonte, aspetta, due, tre, quattro, orizzonte, destra, sette, orizzonte, su, giù, su, giù, su, giù, su, destra, destra, sinistra. Grazie. 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 Ora orizzonte, cinque, sei, destra, su, destra, su, sinistra, su, destra, su, sinistra, ancora, bravi, inclinate di più, vai, esageratevi, vai. step touch, sette, otte, spalle, su, spalle, giù, spalle, su, spalle, giù, vai, esageratevi, su e giù, ancora, vai, ancora, vai, stop, bravissimi, bravi, stop. 3, 4, orizzonte, 6, 7, 8, braccia, su, giù, su, destra, sinistra, destra, sinistra, step touch, vai, step, spalle, su, spalle, giù, spalle, su, step touch, step, su, giù. seguite, 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 su, giù, su, giù, su, giù, su, giù. tornate, bravissimi. seguite, 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 seguite seguilo! seguilo! giù! su! giù! su! giù! su! giù! su! giù! solo su un giù, step touch io dico su un giù con le braccia, voi seguiteci su un giù con le braccia il metà, lui, il metà! il trattato in un giù con il che è divino il metà, il metà, il metà, il metà Sì, zez, stup, 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 stup. Sì, zup. Giu, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù. Seguilo, seguilo. Vai, chiudelo, vai. Giu, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù. Un altro, subito. Vai. Spalle su, spalle giù, spalle su, spalle giù Vai, energy, vai, giù, vai, seguilo, vai, seguilo, vai, seguilo Giù, su, giù, su, giù, su, giù Grazie